Don Bergamaschi Io sono sempre disponibile a far vedere i miei audiovisivi perché oltre a presentare attività alpinistiche presentano anche aspetti culturali del paese dove ci richiamo, quindi diventano anche audiovisivi istruttivi e fra 11 giorni riparto e il prossimo audiovisivo lo ripresenterò alla Sala Europa il 18 dicembre 1998, cioè abbiamo già i programmi quindi se voi pensate di invitarmi penso che, innanzitutto viene grazie in anticipo, se prima del 18 dicembre vi faccio vedere un altro audiovisivo, se dopo il 18 dicembre vi farò vedere Karakorum 2, cioè la seconda parte di un'attraversata alpinistica del Karakorum Il prossimo è in Pakistan, partiamo fra 11 giorni e come dicevo è la seconda parte dell'attraversata alpinistica che andremo nella zona del K2 del gruppo del Mashebrum, attraverseremo la catena del Mashebrum e poi ritorneremo in Italia a casa, eccoci, dopo un mese Grazie a tutti